Eccoci, due giorni pieni, intensi, però siamo particolarmente soddisfatti. È per la qualità dei relatori che hanno intrattenuto piacevolmente i ragazzi, ma anche per questo senso di collaborazione e cooperazione che caratterizza il nostro istituto. Quindi in un unico abbraccio il Liceo delle Scienze Umane con il musicale, con gli alunni della professoressa Irene Lucca, hanno dato poi alla fine questo spettacolo emblematico e simbolico, ma di forte impatto emotivo. Quindi siamo veramente contenti per i risultati ottenuti. Ancora una volta ringrazio la collega e il musicale più in generale. Io ringrazio te per aver partecipato di nuovo a questa grandissima manifestazione e la presentazione del testo. È stata una bellissima esperienza anche da parte nostra, soprattutto dai ragazzi. Dopo due anni che sono stati fermi, sono andati avanti solamente a suonare online per vincere i concorsi, però ci voleva una cosa del genere. Complimenti veramente. Ancora una volta un lavoro di squadra che qualifica bene il Regina Margherita. Grazie ancora. A presto. A presto.